secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie beh le altre persone comunque io seguo tante persone che non conosco che magari neanche ho mai visto poi le altre le conosco di vista capito cioè un po' magari le vedo all'old un po' chiacchia oh zaccaria è entrato in live mi hai risposto ma mi sta amaranzando no ma amaranza ma già da alla cop alla cop cioè il supermercato di sinistra il supermercato di sinistra di sinistra la cop perché qua in zona mia sta a sinistra adesso ha già l'esso lunga boh io di solito mi mangio il po' la del cop quindi ti dico quello ma se al primo appuntamento sei tu esatto ma se al primo appuntamento un ragazzo ti porto a una ragazza e una povera di fidanzata a te a me una fidanzata a te a me una fidanzata a te a me ti aggiungo io perché amiamo questo che fa male ciò che fa bene non lasciamo andare nooo ok adesso ha capito Voi avete dov'è l'app dell'iPhone, dov'è? Sì, per forza. Io ho 24 posizioni. Di chi? 24 posizioni. 24 posizioni di persone. E infatti una delle cose che mi ha fatto strano quando sono uscita è anche il fatto stesso di avere il microfono sempre qui, no? Quindi quando sono uscita mi ha fatto strano non avere il microfono che avevo tenuto per due mesi là dentro. Perché c'hai anche il microfono. Ci saranno due mesi là dentro? Ci saranno due mesi. E hai avuto in relazione con qualcuno? Allora, prima di entrare avevo conosciuto Luca. Ma era una cosa delle strade perché l'avevo conosciuto Luca D'Alessio, LDA. Lui. Ah, LDA. Sì, sì. Poi è una cosa che è andata avanti per un po' là dentro poi basta. Comunque lui è un bravo ragazzo. Sì, assolutamente sì. Comunque io... Scusa. Scusami, sei completamente abbattendo i tempi però dimmi. Scusami. Ma tu sei stata quest'anno da amici? Sì, ok. Ma quest'anno? Ma non 2018? No, l'anno che ha vinto... 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 Saremo Young, hai vinto? Ho vinto, sì. Ah. Ma che brava. Ma tu hai Spotify, è proprio lo Spotify. Possiamo sentire la tua canzone? No, no, no. Sotto... Sotto i dieci andrebbe bene. Sei! Woo! Comunque Firenze. Ancora. Tu hai dato un altro? Un altro? Allora ti dico... Pendo. Sopra il booster. Anna Fattura non parla di booster. Dario. Dimmi. Ti stai divertendo? Dai, sì. Ma fa cosa? Tu hai gli... Hai gli specchi che... Allora, Rubino, Rubino, Rubino. Come ha fatto il mondo. Questa è la mia versione, eh. Io sono profondamente convinto che è così perché da... Da uno che ha una forte sensibilità esoterica... Io lo capisco immediatamente che ci sono loro dietro a tutti questi imbrogli. Non ho capito. Che è successo? No, è entrato un disturbatore. Tipo Paolini. Ah, è la maglietta della Nike. Ma come sei omologato veramente. Ma che cazzo vuoi? Sei omologato. Dimmi. Scusa, scusa, con tutto il rispetto. Che cazzo vuoi? Allora, aspetta, dillo bene. Scusami, scusami, ma scusami davvero, Alvino, davvero. Te lo dico, scusami. Ma cosa stracazzo vuoi? Ma cosa cazzo vuoi? No, scherzo. Tu che magliettai, Alvino? Sono un po' troppo posto. Il vero di crackdown, di... No, chiedi ad Alvino dove compri i vestiti. Chiedi ad Alvino dove compri i vestiti. Chiedi ad qualcuno un po'... Un po' matto. Aia. La testa un attimo arriva, eh. Ok, Dan, non ci sei? Mi senti? Sì, con la testa? Sì, un idiota. Ci siamo. Mi senti? Si con la testa? Ok. Ok. Allora, adesso la live è tua, Dan, al mondo. Buonasera. Io non apparirò più. Ok. Dio, Alvino, coloppini, di parlare della terra piatta, per favore. Allora, Albino, buonasera. Esponiamo, insomma... Proprio il fin zonato. Cioè, semplicemente ti ha dato il palo? Sì, mi ha dato il palo. Assurdo. Assurdo, assurdo. Ma sai che a noi capita più o meno quattro volte ogni sera? Lo sapevi? Eh? Ma noi non... Quelle lì non sono le fre... Quelle lì per noi è praticamente... Cioè, ce la ridiamo dopo il secondo, dopo non ce le ricordiamo neanche tante sono. Chiaro o no, Cristo Dio? È chiaro o no, è diverso! Sto dicendo un'altra cosa. Scusami, Giada. Però, sto parlando di un altro tipo di free hand zone. Free hand zone, proprio una roba... Vabbè, ma Fiedi, come metti metterai a scappare. Vabbè, lo dici tu. Misterioso di questo Dio. Misterioso del cazzo, vai. Stiamo ballando, siamo in una discoteca per... No, tu non balleresti mai, sei là che andiamo a fare quello tutti. Ma tu fai il misterioso? Sì, sì. Non c'è la domanda. Ma hai capito? Cioè, lui in discoteca che sembra così che... Ragazzo, ma sei misterioso? Lui, io spaccio. Fai il cretino, sì sì, fai il cretino. Fai il misterioso. Jody invece, voi lo vedete da lontano, ci sono i fiori che li gravitano attorno con una... Jody potrebbe essere il vostro ragazzo ideale? Cioè, così... Sì, no, no, no. Non mi sembrava come è così grande, non guardate come è... Ma Jody potrebbe essere un ragazzo per il quale ci potresti rimanere sotto? No, non lo conosciamo, quindi... Eh, esatto. Vabbè, così abbiamo impatto, no? Così abbiamo impatto, non te lo posso dire. Simone? Sicuramente no. Ma qual è la differenza, mi scusi? Eh, su questo canale Twitch non si può dire salve... Ma chi è che l'ha detta questa... Questa regola che lei imposta? Il proprietario del canale... Ma io non do, ascolta il proprietario del canale... Non dovrebbe neanche dare a lei, ascolta il proprietario di questo canale, dato che è un buffone. Però... Eh, no, no, si dovrebbe... Come ti chiami? Sì, ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi... Oddio... Grazie Kata03, grazie mille... Ma scommessa, se il primo colpo... Beh, ragazzi, ho stile baserai, se non c'è la mia manguida... Ok... E poi ho... Le Air Force bianche... Classica, perfetta... Cioè non c'è un motivo per il quale mi son vestito così, mi andavo, adesso... Ciao, è Virginia, se vuoi spiegare il tuo outfit... Vabbè, un top bianco, normale... E dei pantaloni e con dei buchi... Perché questi buchi? Perché sono carini... No? Sì, sì... Ho fatto la pipì, eh, stai tranquilla... E qua, però, ti ricordo che c'è la cacca, eh... Ho fatto la pipì... Quindi cosa... Cosa ordiniamo da mangiare? Io gli dico... Sei sporco qua... Dove? Qua... Qua? Cos'è? Ah, ma è merda... No... No... Probabilmente di sera, tipo... Non so... Non so... Veramente state facendo? No, no, no... Dammi un minuto, dammi un minuto... Ale, fermo, dammi un minuto... Voi veramente... Veramente state facendo, ragazzi? Siete seri? Cioè, siete seri? 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 No, allora, ragazzi... Se io leggo tanti Jody Out... Siete seri? Siete seri? Siete seri? Siete seri? Non so cosa è partito... Ma what the fuck? Ma non l'ho mai sentito in vita mia, fammelo sentire, aspetta... Siete seri? Ma what? La tana del fredito... Vediamo? Non farsi rumori perché... Perché Beppe... Inizia a suonare... Beppe mi avvicini... Beppe mi avvicini... Ma se vuoi stare pure io dietro, non è un problema... Sicuro? Va bene... Simone piace stare dietro, dei suoi racconti... Damn... Damn... Allora... Ragazze... Parliamo un attimo di un argomento molto interessante... Eh... Oggi ho visto l'incendio della... 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 Vedi qua c'è scritto polizia e non posso... Eh... Però io sono comunque fermamente convinto che il Polo Nord non esista... Eeeeee... Ti sto convincendo... Sono... No però devi convincere Claudia e Giada... Io sono già convintissimo... Chiedi ad Albino qual è la sua... Sono convinto... Cosa che mi devo dire... Rupi...